Si intitola Un anno di lotta al Covid 2020-2021, il libro nato dalla collaborazione tra l'ospedale delle Scott e la Regione Toscana, presentato dal direttore generale dell'azienda ospedaliera senese Antonio Barretta e dal presidente Eugenio Gianni. Al centro del libro, la pandemia da Covid-19, narrata attraverso le testimonianze raccolte all'interno dell'ospedale su come reagire alla pandemia, combatterla e trarne insegnamento. E noi un giorno dovremo cogliere da questo anno dove vi sono stati sicuramente i drammatici eventi che ci hanno portato a vedere morire più di 6.000 toscani, più di 130.000 italiani, ma contemporaneamente anche momenti altissimi di solidarietà, di impegno, di dedizione della propria vita agli altri. In questo libro sono raccontate le emozioni dei professionisti in un anno di lotta al Covid, quindi insomma una pubblicazione che vuole costituire un omaggio per loro, ma anche testimoniare una serie di, rendere anche testimonianza degli insegnamenti che il Covid ci lascia e che sarà bene anche traghettare nel futuro. Per esempio uno di questi è sicuramente il fatto che nella lotta alle difficoltà maggiori, nella lotta ad alcune patologie come il Covid, la collaborazione fra i professionisti è fondamentale e quindi è importante per combattere certe sfide anche lavorare insieme. L'opera, pensata in formato ebook, disponibile gratuitamente, è stata pubblicata anche in cartaceo. Grazie a tutti.